questa mattina usciamo da un panel dove si parlava di imprenditoria al femminile e mi sembra che la nostra ospite ne possa essere una degna rappresentante ciao silvio grazie per l'introduzione sono valeria santoro country manager di stocard qui in italia stocard è un app wallet che ha virtualizzato oggi tutta la loyalty in italia e non solo e stiamo per lanciare il mobile payment capita molto spesso che le app vengano scaricate poi buttate via sul telefono quali sono i vostri risultati in tal senso cioè avete dei numeri che possono far vedere chiaramente che l'app è piaciuta ai vostri utenti e che la utilizzano realmente allora noi abbiamo grazie noi abbiamo raggiunto oggi 5 milioni di italiani che utilizzano l'app di cui 4 e mezzo quindi il 90 per cento sono utenti attivi nel mese come sappiamo ormai download non devono neanche venire menzionati proprio perché sono tante le applicazioni che ormai scarichiamo ma sono anche tante le applicazioni che poi cancelliamo dal nostro telefono è una domanda un po stupida ma perché dovrei usare proprio la vostra applicazione visto che altre case forniscono già il loro wallet perché scegliere proprio voi Stocard in realtà ha avuto subito da principio un'adozione molto alta in maniera proprio organica da parte degli utenti rispetto agli app wallet che erano già embeddati nei telefoni dai produttori quindi dai manufacturer piuttosto che dai sistemi operativi stessi quindi ti direi Silvio che in realtà il motivo è molto semplice gli utenti semplicemente con il passaparola hanno decretato che l'applicazione Stocard è l'applicazione più semplice che esista al momento